Non accetta la fine della loro storia d'amore e in preda alla follia cieca minaccia di compiere una strage. Momenti di terrore a Nardò dove un 32enne del posto sorvegliato speciale e già noto alle forze dell'ordine si è barricato nell'abitazione dei familiari della ex fidanzata sequestrando e terrorizzando un'intera famiglia. L'uomo, Alvise Miccoli, è stato protagonista di una mattinata di pura follia. Dopo aver fatto irruzione in casa della ex compagna in zona Grotta Corsari, nelle campagne alla periferia del comune Neritino, ha preso in ostaggio marito, moglie e figlia minore, ha cosparso di liquido infiammabile il suo ocero tentando di dargli fuoco. Mentre il poveretto bruciava vivo, il 32enne ha continuato a intimidire la sua ex fidanzata verso cui evidentemente provava rancore. Nonostante fosse spaventata, la ragazza è riuscita a chiudersi in camera per avere il tempo di fuggire da una finestra della piccola masseria. Ha corso nei campi fino a quando si è sentita al sicuro e ha chiesto aiuto. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Nardò che insieme ai colleghi della compagnia di Gallipoli hanno fatto di tutto per riportare la situazione alla normalità. Sentendosi braccato, Miccoli ha preso il fucile dell'ex suocero e si è barricato in casa, prendendo in ostaggio la nonna, un'anziana non vedente e la sorella 22enne della sua ex fidanzata. Gli uomini in divisa hanno provato a calmare l'uomo che minacciava di far saltare in aria l'abitazione con alcune bombole di gas. Gli hanno parlato a lungo fino a quando, dopo una estenuante trattativa, l'uomo ha deciso di arrendersi. Si è consegnato delle mani delle forze dell'ordine che lo hanno accompagnato in caserma per interrogarlo. Resta da capire se Miccoli abbia studiato la sua vendetta a tavolino o se sia stata l'ira e la rabbia, covata da tempo nei confronti della ex compagna, a spingerlo a compiere un gesto così estremo. Il padre, nel frattempo, è stato accompagnato a bordo di un'ambulanza al centro grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi, a causa delle profonde ferite riportate dal fuoco. È ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato ustioni di primo e secondo grado sul 40% del corpo, in particolare sul volto e sul torace. Alvise Miccoli era già conosciuto alle forze dell'ordine. Alle spalle aveva una serie di piccoli precedenti per rapine, furti e possesso di armi, ma nessuno poteva immaginare che sarebbe potuto arrivare a tanto.